Sto mandando su Facebook? Ah no no Sto mandando su Facebook io Ok, bene Dove vai? No, il contrario è tuo Bene, siamo riuniti tutti insieme a Passione da Vempe Con il gruppo Un po' salzole, come c'è Ilenia Saluta Ilenia Ciao Marina Ecco, Duisa Ciao Germano Ciao Ecco, Patrizio Saluta Pat, Patrizio Vuoi fare un saluto? Vuoi fare un saluto, per favore? Ai tuoi amici anche? Eh certo Venite sulla mia pagina Patrizio Rispo, official fan club Metto del materiale meraviglioso Anche quello di Nina che esce dalla SOF Forse È stata nominata Ecco, perfetto E tu? Ciao, ecco Benissimo, vado a fare un altro giro Bene 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 Qui abbiamo altri panciulli Alberto Rossi E non so come si mette il flash Mio Ecco il nostro produttore artistico Che stasera ovviamente ci parlerà Ai 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 Che cosa ci riserverà questo 2012 Non si sa Alla prossima ragazzi Ce va tutti Te sc ar Bo veri